Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Ma potrebbe essere carino per alcuni di voi. Un ottimo passatempo anche visto il prezzo. È un dungeon crawler, o più che altro non proprio dungeon perché ci sono ambientazioni anche all'aperto, ma c'è la permanent death, quindi la possibilità di, l'obbligo anzi, una volta morti di ricominciare. Potete caricare la partita e continuare, oppure, vedete qua ho la mia partita alle catacombe, io ne comincio una nuova, Create, e quindi viene generato il mondo. Ogni mappa, ogni run è diversa dalla precedente e possiamo scegliere che cosa interpretare. Ok, abbiamo il satiro, il fungoide, lo scheletro. Io ho iniziato con lo scheletro, ma stavolta voglio iniziare con il satire. Classe, cavaliere, mago, barbaro, no io faccio il cavaliere. Mago, eh sì, maschio, femmina, non cambia niente. Lo chiamo indie, di nuovo, e iniziamo. Vedete che qua ci dà i talenti, insomma, non può equipaggiare elmi e stivali, resiste all'arcano, debolezza al sangue, aumenta la velocità di movimento e si trova bene con la spada. Iniziamo. La prima run che ho fatto era nelle catacombe, adesso non so se saremo nella stessa ambientazione, sicuramente la mappa è diversa, no, in caso le catacombe, perché poi si uscirà da queste catacombe. Il sistema di combattimento è privo di target, quindi dobbiamo essere noi bravi a mirare il nemico, per quanto ha delle criticità abbastanza grosse. Per quanto, vabbè, la grafica è quella che, nel senso che la grafica è mediocre, insomma, non è ultra dettagliata. I menu sono quello che sono. Abbiamo uno skill tree abbastanza ampio, che riguarda varie categorie, quindi in questo caso possiamo, adesso non me ne dà altre, abbiamo solo la spada. Ce ne sono, oddio, eh sì, questo ok, sono caduto giù, perché poi ci sono altri rami, ci sono, c'è quello del fuoco e ce ne sono diversi altri, ma qua non li vedo perché ci sono, vedo solo spada, adesso, vabbè. Dove possiamo andare a prendere le abilità, metterle in barra, qua abbiamo il nostro inventario e qua l'equipaggiamento che abbiamo. Le statistiche, il fatto di ogni livello possiamo aumentare, qua vediamo le resistenze, niente di che. Si combatte, ma il problema è che il sistema, vabbè, c'è un sistema simile ai souls, infatti vedete le barre in alto nel mio precedente personaggio, erano totalmente diverse. Ho questo broken leg, ah, ho una gamba rotta, non so, ah, perché sono caduto giù, sì. Allora, intanto non è che ci evidenzia gli oggetti a terra, quindi bisogna premere A quando si vede qualcosa a terra. Ma le hitbox sono veramente qualcosa di terrificante, perché non abbiamo un feedback del nemico colpito, e quindi bisogna fare attenzione. Adesso ve lo dimostro meglio, non perderemo eccessivo tempo su questo titolo, perché ovviamente è un gioco che costa poco, è fatto per intrattenere, per far passare il tempo. Infatti può essere intrigante, adesso si può anche rotolare. Ok, vedete che ha lasciato cadere qualcosa, lo possiamo prendere, spesso sono oggetti che equipaggiavano. Ho lo scudo, difesa 23, difesa 24, blocco 68, blocco 61, no. Ho questo, che è una difesa 10, difesa 15, vedete io cliccando col destro posso equipaggiarlo, ma non ha senso al momento. E ci sono passaggi segreti, ci sono cose da trovare, però vedete che attaccando da dietro faccio che anche c'è la parata, col tasto c'è il Perry, che però non rimanda a nessun tipo di feedback particolare, infatti sto subendo danno e basta. Però intanto faccio esperienza. La mappa di gioco in alto a destra, non è cliccabile, però posso con la rotellina del mouse muovermi avanti e indietro, quindi andare pian piano ad esplorarlo. Vabbè, è il tipo di mappa che mi ricorda molto il board game, come ad esempio un Hero Quest. Vedete che non ho un feedback che lui mi sta parando i colpi con lo scudo, vedo semplicemente che non gli faccio niente. Adesso lui ha mollato qualcosa che sembra essere un martello, un'ascia grande, vedete che è verde, quindi ci sono vari equipaggiamenti. Non so se poi sarà possibile vendere le cose, ma qua sembra esserci qualcosa qua oltre questa stanza, ma probabilmente dobbiamo fare il giro da qui. Ora abbiamo un forziere. Devo assolutamente trovare una pozione, perché poi se guardate gli screen su Steam, vedete che le ambientazioni non sono tutte così. Abbiamo preso il 92 lune. Non sono tutte così, dicevo, ma ci sono ambientazioni anche all'aperto. Poi, è bello quando attaccate, adesso questo, vedete come si taglia, cioè, alcune animazioni sono veramente carine. Adesso ci siamo presi del danno da veleno, che è una trappola, anche qui. La cosa brutta è la scivolata, la rotolata, perché se io premo Shift corro. Se premo una volta e mollo subito mi fa la scivolata, la rotolata, ma neanche subito. Intanto sono morto. Non mi porta alla morte, credo il veleno, ma mi porta a uno di vita. Tanti sono gli oggetti distruttibili. Qua c'è... no, sono morto. Mi ricorda, per certi versi, anche un altro gioco che non mi ricordo, mannaggia il nome o troppi giochi. È survival di sopravvivenza giocabile anche a schermo condiviso con un amico. E... però credo sia tutt'altro gioco. Non mi sono rotto la gamba stavolta, però cos'è sto... Ah, ok, ho le difese ridotte. La mappa dovrebbe tecnicamente cambiare. Io non vorrei che il cambio di ambientazione sia anche dovuto a quando noi raggiungeremo determinati checkpoint e ripartiremo sempre da lì. Comunque, abbiamo perso tutto, ma abbiamo preso pozione del mana. Stivali che non possiamo equipaggiare perché vedete che manca, manca lo slot. Perché questa classe, questa razza qui, non li equipaggia, come abbiamo già detto, perché ha le zampe. E ha la testa con le corna. Però vedete che è un po' frustrante perché continuo a cliccare. Però probabilmente contro boss o mostri un pochino più importanti sarà più difficile. Però vedete che non è... Cioè, adesso... Io ho visto il gioco, ho fatto richiesta allo sviluppatore, c'è stata la possibilità di provarlo. Sarà da tenere d'occhio in futuro, perché ovviamente... Geniale la trappola qua. Cioè, ancora... Cioè, potenzialmente... Non è male. Eh, questo l'ho schivato al P. Eh, questo l'ho preso in pieno, però. Potenzialmente non è male. Non è assolutamente male. Però mi sto nervosendo io, eh. Perché adesso mi stanno facendo malissimo. Ok, quello... Ah, sono trappoli, ecco di... Allora, qua dentro c'è un po' di roba. No. Ho già preso, ci sono dei... Pantaloni, 32 di protezione, 42. Sono tutti... Questo è in difesa. Va bene. Vedete che cambiano proprio... 60 di protezione e 53. Non ha senso. I guanti in pelle non li avevo. Ah, qui c'è una leva. Apriamo. Savage shoulder pad. Ok. L'ambientazione è già... È più cupa di prima. Adesso voglio vedere... Andando lontano... Siamo arrivati delle catacombe. Ma qua non c'è niente. C'è questo che non so cosa sia. Non credo neanche di poterci interagire. Mi sta seguendo un topo. Cioè è fastidioso la hitbox perché sicuramente non posso negare che magari non possano migliorarla in futuro. Però... Avevo già portato un gioco simile qualche settimana fa. Non mi pare che vi fosse piaciuto più di tanto. Però... Qua si sta facendo interessante. Eccolo lì. No, no, sto cercando di sopravvivere il più possibile. Non so dove sto andando. Non ho neanche porzione di cura. Spero di non finire nelle trappole. Qua sono tornato dove ero prima ma andando di qua non ci sono mai stato. Quindi vediamo cosa c'è. Però onestamente per com'è lo stato adesso del gioco non mi viene voglia di... rientrare in gioco e andare avanti. Però è tutto in mano agli sviluppatori. Dipende come lo porteranno avanti. Vediamo se ho una pozione di cura adesso. Magari siamo fortunati. Ho trovato una pozione. Sì. Call it wood. Non posso mettere il cappello giustamente. Qua ci siamo già stati. Però c'è una stanza qua. Vedete che c'è una stanza qui. Però non capisco. Non capisco qui che cosa serve tutto questo. Vediamo se c'è qualche interazione con questo. No. O che devo mettere qualche oggetto ma... Quello è stato ampiamente ferito. Bello perché comunque le danneggiano le trappole. Le loro stesse trappole. E danneggiano anche me. Insomma. Che altro c'è da dire? Ragazzi. Questo è un video eccessivamente forse breve. Ma vi volevo far vedere questo titolo. Dispel. Che già dai menu si vede che è molto 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 spartano. È giocabile anche con il pad. È da tenere d'occhio perché comunque parliamo di un gioco che è uscito da poco. E... Allora come vi ho detto è uscito... Vabbè sì. 13 di febbraio. Resterà in early access per almeno un anno e mezzo. E aggiungeranno nuove localizzazioni in altre lingue. Uno skill tree per le daghe. Per tutto. La possibilità di fare con una... Diciamo una station di crafting. Un'incudine. La possibilità di fare i melting e ottenere degli oggetti. Aggiornare l'equipaggiamento. I lockpick per aprire le ceste. Delle cose per diciamo stoppare le maledizioni. Cioè sto leggendo dalla pagina steaming. Quindi ci saranno livelli. Nuovi livelli. Nuovi nemici. Nuovi boss. Nuove razze di gioco. Al momento ci sono 12 tipi di armi. 12 skill. 90 abilità. 3 razze. 4 livelli. 1 città. 3 boss. 31 nemici diciamo diversi. 68 item di equipaggiamento. 43 consumabili diversi. E aumenterà perlomeno del doppio. All'uscita. Quindi costerà 20 euro. Non 9.75. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Il bello del gioco è proprio la generazione procedurale. Dei livelli. Sì procedurale. Mi incespico sempre su questa parola. Probabilmente per il passato che ha avuto per me. Fatemi sapere che cosa ne pensate ancora una volta. E alla prossima. Ciao ciao. Fatemi sapere che cosa ne pensate ancora una volta. Fatemi sapere che cosa ne pensate ancora una volta.